sul Dossena Dossena converge tocca su Altobelli, non ne riesce il triangolo un rimpallo, poi il colpo di testa di Frasco l'arresto di Kip, l'attacco su di lui di Bergomi il cross di Bergomi, la palla è per Altobelli gol! gol di Altobelli su manovra per la verità abbastanza occasionale dei nostri Altobelli puntualissimo è andato a sbloccare il risultato al quarantesimo del primo tempo ancora un gol dunque di Altobelli e Azzurri in vantaggio sul Portogallo ottima iniziativa di Dossena palla poi per Altobelli e Altobelli ancora una volta ha conservato la necessaria prezzezza in area di rigore a Fatto Secco Jesus ecco che rivediamo, vedete Altobelli sull'uscita del portiere lo infila inesorabilmente e Azzurri in vantaggio a... 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 a...